Ciao ragazzi sono Nemoff e bentornati sul mio canale Oggi ragazzi sono qui per fare un video su OneHP Una mappa Minecraft che ho trovato che è davvero divertente Ancora non l'ho manco provata però Sono qui quindi a provarla con voi a fare delle partite No vabbè fighissimo La testolina di facebook di skype di bellissimo Complimenti al creatore C'è solo una regola Segui le istruzioni della mappa Iniziamo subito Questo video lo sto caricando non con la fibra mia Ma con la fibra di mio padre Ci sono 10 livelli Ogni livello ha una gesta nascosta Trova il bottone e vinci Ed ho una vita Oh cazzo ho tirato una botta Tutorial Follow me Ah ok no ho capito Cioè sono morto nel tutorial Sono serio Mamma mia No non mi di che c'è Ma che schifo il salto automatico Ma come si toglie Ma che cos'è questa cosa Comandi Salto automatico Vai a morire per favore Non deve esistere più il salto automatico Ok devo prendere questo e completare il monumento Che non so dov'è Ma puoi usare per completare il monumento Quindi sicuramente sarà alla fine Oddio pensavo di morire Ma lamento Aia No non dice nulla Va bene Andiamo Weee Weee Comunque stavo dicendo Questo video lo caricherò Prima che mi arrivi la fibra Ehm Quindi con la fibra di mio padre E poi Comunque vi ho detto Quando caricherò Quando mi arriverà la fibra Farò proprio un video specifico Su questa cosa Ragazzi questa registrazione in post produzione Mentre sto editando questo video Vi volevo dire che il 16 agosto Verranno attaccare la fibra Dalle 8 e mezzo alle 10 e mezzo Quindi di mattina E quindi poi uscire un video al riguardo Tra un paio di giorni Allora la gesta segreta è qua Perfetto Il problema è dove si va per il bottone Ah eccolo Minchia troppo forte Raga troppo fuocchi Troppo fuocchi No 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 che cazzo fai Ehm Qua No come ho fatto a prendere danno Sul serio Are you serious man Ok poi qua Perfetto Adesso troviamo la cassa segreta Vediamo sicuramente sarà sotto la lava Perché Ok Stavolta non mi sono fatto nulla Andiamo Andiamo Perfetto Allora Se non lo sapete Ragazzi le chest Non si Ehm Non si bruciano sotto la lava Nemmeno con il fuoco Quindi Potete trovarlo anche sotto la lava Ah eccola Ok non è sotto la lava Perfetto Oh shit Ah ho capito Uii Si Mamma mia Ragazzi se non trovate le chest Fate sempre così Sempre così Perché prima o poi lo troverete Allora E sicuramente qua Eccola sapevo Oddio Che cosa brutta Non riesco a passare Vabbè la prendo comunque No Ok Peccato che sono troppo pro per questo gioco Ah ah Ok Dov'è il bottone Eccolo qui Fratelli Sono troppo forte Ehm Allora Ah oddio No Che cosa brutta E' una cosa bruttissima Questa Come cazzo faccio E trova l'aria Oh eccola 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 Sì Peccato che non ci arriverò mai Ok almeno ho preso la lana Cosa molto importante Vediamo Scappiamo 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 In livello è per forza giù Non è che chissà che cosa succede In livello è per forza giù Non c'è nulla da fare Aspetta che forse l'ho vista Ma per almeno Oh si Troppo forte Signori Troppo forte Allora vediamo Forza qui Quindi Buuu Perfetto E buuu Perfetto E buuu Perfetto E poi E poi E qua è buuu Per forza Ok è buuu Per forza Mamma mia La proagine Del signor Limov Ok non devo finire il livello Sicuramente in questa casetta Ci sarà qualcosa E volevi farmi cadere E volevi E vole Come cazzo No Oh mio dio No Meno male che l'ho presa comunque La lana me la torna Ok no Me la ridà Perfetto 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 No mio dio Perfetto Eccolo qui Ciao Piccolino Livello 6 Che cazzinbero bisogna fare Andiamo No 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 Lo sapevo L'avevo già visto Però sono stupido E ci vado a finire Vabbè 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 Lui ha deciso di fare Quello Deciso di fare Solo Vabbè Facciamo un bel saltino Un bel jump Facciamo Bing Stavo per morire Malamente anche Come si fa Dove bisogna andare Forza da qua giù Penso Da qua giù Da qua giù Qua giù Mamma mia La proagine La proagine No Lolo 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 Vedi che per parlare Che sono stupido Perfetto Facciamo un bel salto Di nuovo Perfetto Toc 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 Sto dicendo Non lo so Sto delirando Come al solito Io delirio 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 Sem Boom Mamma mia Cioè raga Gioco dell'anno A parte gioco dell'anno Player dell'anno Sinceramente Cosa Eh qua c'è il bottoncino Per forza è qua La cesta Non c'è nulla da fare E qualche trapo Ti pensi che sono così stupido da entrarci? Ovviamente no E andiamo Bella frate Bellissimo questo livello Ho paura di Ok, meno male che non si può fare Ma poi perché lo stavo facendo? Allora, sicuramente la muoio se faccio così Troppo alto, infatti E' un problema Madonna mia, che stupido questo Allora Devo andare da qualche parte Il problema è che non so dove Qua non posso andare più, anzi però faccio così E poi posso andare E poi E poi posso andare, ok Posso andare Posso andare In bagno Oddio, scusa Non faccio apposta a prendertelo Poi facciamo così, piano piano, e poi facciamo così Ma poi perché sono andato qua? Ma sono stupido Ah no, ok Mamma mia la proagine Allora, qua c'è sempre qualcosa Oppure posso scendere tranquillaziamente Posso scegliere di entrare lì Scegliere Cazzo Cioè perché dovrei entrare? Forse perché è là il bottone No, non pensi a qua Dove risalire Oddio Bellissimo questo Oddio Oddio Ma perché cazzo faccio così? È vero Qua ci posso morire Non sia mai muoio veramente Vedi le madonne che partano E basta cadere Ma perché sei così stupido Mi però Ma non devi andare qua Devi rimanere sotto il blocco Sotto il blocco Madonna come sei stupido Sei proprio stupido Ah ok Ma allora è una cazzatina È tutta la tecnica Metrica Citrica Critica Oh mamma mia Bravissimo Livello 8 Cosa si fa? Nemmeno ci arrivo No Ma perché muoio? Me lo chiedo anche io Fratello Che cazzo sto dicendo? Forse C'è un piccolo C'è una piccola speranza Forse ho capito Allora qua è impossibile E quindi è per forza Non c'è non è per forza Non è là Se faccio così però ci arrivo Non è vero Oddio forse si qua Se faccio tipo così Ci si può arrivare Ci si può arrivare Me lo sento Quindi passiamo tutta l'indietà Altrimenti perché mi Mi avrebbe fatto spawnare qui sopra E si può E si può signori E si va a comandare E si va a comandare E si va a comandare Più di prima Viva la gallina Cosa vuol dire? Oddio ce l'ho fatta Devo solo scendere Il posto più basso Per scendere È Qua No qua Voglio morire adesso No veramente Mannaggia a te Oh grazie mille Aspetta vediamo Ok qua l'ho trovato Devo solo trovare la lana Per forza In una di queste stronzate Eccola qua Livello 9 Uh Finito Si che bello Finito Penso sia finita la mappa Livello 9 finale Minchia Oh mio dio Sarà una cosa Veramente impossibile Questa Forse ho capito Ho capito il mondo Raga Qua ci vuole il timing Ho una botta di culo assurda Ma adesso non so se è possibile Arrivarci così Così proprio no Sicuro Quando non ce l'ho fatta Allora devo partire tipo così No Si Oh mio dio No raga Troppo forte Allora Il problema è che adesso Non so come scendere Non voglio Ho paura Sinceramente La mi uccido No Non lo voglio più rifare Non lo voglio più rifare Dai Ti prego Ma perché sei così cattivo con me Mizzica Allora Il problema Il problema è uno Non so come scendere No No ci faccio un secondo episodio Quindi ragazzi Ci vediamo al prossimo video Dove faremo l'ultimo livello Quindi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao Ciao